Ciao! Ciao! Cos'è il Frozen Kiss? Ma ve lo spiego io, ve lo spiego io! Ciao! Allora, il Frozen Kiss Il Frozen Kiss è organizzato ovviamente dal Verona Pride e che cos'è secondo voi? Cioè, sa, non si studia l'inglese Allora, facciamoci per fare la differenza e sarà il 14 febbraio che è San Valentino la festa di ogni limoncino e quindi ovviamente chi volesse delle informazioni le può trovare su Frozen Kiss at veronapride.it e ovviamente che cosa si farà? Ci si troverà in centro a Verona per... baciarsi inizialmente l'emozione è molto curiosa i miei ragazzi e va bene allora ragazzi diamo dimostrazione al mondo intero di come si fa le meta cose per vedere spiega però non andiamo a che ci offre dai su! Bacciamoci Per fare la differenza A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!